Purtroppo anche oggi è stata una partita giocata male, direi non proprio bene, avevo avuto in settimana un colloquio con la squadra, purtroppo i ragazzi non hanno reagito come speravo e adesso andremo domenica a Forlipo, c'è un'altra gara importante in casa contro Mantua e chiaramente bisogna la vittoria perché la classifica inizia ad essere veramente preoccupante. Interverrete sul mercato? A gennaio vediamo se c'è qualcosa di interessante per noi, sicuramente saremo vigili.